Martedì 12 agosto, Vallo della Lucania, serata finale della prima edizione dei Giochi senza frontiere. Martedì 12 agosto, Vallo della Lucania, frazione Pattano, dalle ore 20 e 30, seconda edizione di Strasapori, festival internazionale del cibo di strada. Martedì 12 agosto, Agropoli, Castello Angiolino Aragonese, ore 21, opera lirica L'Elisir d'Amore. Martedì 12 agosto, Gioe Cilento, località Seibito. Gioe Cilento presenta sua maestà il Fusillo. Martedì 12 agosto, Piazza Lucia, Santa Maria di Castellabate, serata di beneficenza, un pozzo per la vita. Martedì 12 agosto, Castello dell'Abbate, festival segreti d'autore. Martedì 12 agosto, Torchiara, alle ore 19, città dello sport, apertura del torneo di beach volley. Martedì 12 agosto, Perdi Fumo, manifestazione di artigianato, prodotti tipici e folclore a porte aperte. Martedì 12 agosto, Cicerale, continua il Cilento Wine Festival. Martedì 12 agosto, Teggiano, itinerario artistico-gastronomico della Diano dei Principi Sanseverino con la festa medievale alla tavola della Principessa Costanza. Martedì 12 agosto, mezza. Martedì 12 agosto,İ're a parte. Grazie a tutti.